Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi quello che andremo a vedere è a ricostruire la stazione dell'alta velocità di Reggio Emilia e alla fine di questo tutorial, forse verranno due tutorial, quello che otterremo è essenzialmente un modello di questo tipo in cui appunto ricostruiremo il sistema di copertura e lo faremo in modo parametrico. Parametrico che cosa significa? Significa che in ogni momento potremo andare a modificare questi parametri che vedete qui sulla destra per andare ad influire sulla geometria. Quindi immaginate che dopo aver modellato tutta questa copertura l'architetto e quindi aver trovato tutti i diversi angoli necessari per avere questo effetto così diciamo elegante l'architetto decida di cambiare qualcosa, di fare dei piccoli aggiustamenti. Su un modello tradizionale ci dovremo rifare quasi per intero il progetto invece in questo caso basterà modificare questi parametri e aspettare che appunto il computer effetti il calcolo per avere il nuovo modello aggiornato. E quindi lo stesso architetto, diciamo il direttore artistico del progetto potrà sbizzarrirsi ad effettuare diverse prove per trovare quella che è la soluzione migliore per le sue esigenze. Vediamo quindi, partiremo da un ragionamento di tipo geometrico per poi proprio mettere le mani nell'algoritmo e creare un algoritmo che possa descrivere questa tipologia di struttura. Buona visione! Se vi piace il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Partiamo dal risultato del primo tutorial per continuare a migliorare quella che è la nostra geometria. Per ora abbiamo solo una successione di curve che si muovono guidate da una serie di punti che si muovono su una sinusoidale. Quello che bisogna fare adesso è essenzialmente lo disegno un attimo in Rhino e dato il nostro portale bisogna andare a definire le superfici di questi portali. Quindi abbiamo solo il profilo esterno andremo a disegnare un profilo interno una sorta di offset ma l'offset in Grasshopper ha poco controllo nel senso che non riesco a controllare se l'offset avverrà all'esterno o all'interno quindi potrei ritrovarmi in questa situazione cioè ad avere curve che sono alcune vengono offsetate all'interno alcune vengono offsetate all'esterno quindi non userò questo tipo di comando piuttosto effettuerò un'operazione di scala del portale esterno in modo che sarò sicuro che la curva che andrò a creare sarà interna alla prima successivamente creeremo una superficie tra queste due curve e poi andremo a dare uno spessore alla superficie ottenuta tramite una semplice estrusione che è simile a quella che avviene nei software di modellazione tradizionali successivamente andremo a riempire lo spazio presente tra i due portali con il vetro e andremo anche ad ipotizzare una possibile configurazione strutturale volta appunto a sorreggere questa vetrata e lo facciamo sempre ipotizzando una terza curva diciamo che si vada a frapporre tra quella interna e quella esterna e andando a distruderla in direzione normale quindi perpendicolare alla sezione in cui insiste il portale e per dare una configurazione strutturale andremo a dividere questa superficie e partendo dai punti creare dei raccordi tra i due diversi piani cioè tra i due piani successivi del portale per cui si partirà per esempio da questo e si individeranno dei punti sulla superficie diciamo che intermedia poi si sposteranno questi punti sulla seconda superficie e si andranno a collegare tra loro la prima lista di punti con la seconda tutto ciò è molto più facile da farsi piuttosto che da spiegarsi partiamo appunto dal risultato del tutorial precedente vediamo che il risultato erano tre linee che costituiscono il nostro portale quindi la prima cosa da fare le mettiamo vicine vedete se selezionate la prima linea ottenete tutte le verticali del lato sinistro se selezionate la seconda linea ottenete le orizzontali se selezionate la terza le verticali del lato destro il nostro obiettivo è unirle in una sorta di polilinea per farlo utilizziamo join quindi doppio clic join curves e tenendo premuto shift andiamo dall'output a c vediamo che effetto è l'operazione e abbiamo 978 curve vediamo un po' dovrebbe essere uguale al numero dei portali quindi per verifica verifichiamo se 978 sono i portali che avevo dato io esatto il numero di portali è 978 quindi essenzialmente ci crea 970 curve che sono i profili dei portali adesso come detto non usiamo offset magari vi posso anche far vedere il risultato dell'offset vediamo se applicassimo un offset a queste curve cosa succederebbe allora selezioniamo le curve offsetate già si vede questa la prima curva per esempio è perfetta quello che vogliamo ottenere ma vedete più avanti dove soprattutto ci sono questi angoli acuti vedete il software mi fa l'offset esternamente e questo non va bene ai fini del risultato che voglio ottenere quindi cancelliamo l'offset adottiamo un'altra tecnica che consiste in scalare allora per prima cosa bisogna di dare una geometria che approssimi il meglio possibile la superficie in cui insiste il portale quindi io per esempio quello che potrei fare è collegare il primo punto con il quarto quindi chiudere questa superficie o addirittura ancora in un modo ancora più semplice fare il loft tra questa linea e quest'altra linea vediamo un po' andiamo a creare un loft tra la linea o meglio ancora una ruled surface che è una superficie tra curve ruled surface vado a mettere le prime curve la lista delle prime curve in A e la lista delle seconde curve in B vedete ottengo tutte le superfici legate alle curve di contorno esatto questa cosa mi servono mi servono per individuare un punto il baricentro di ognuna di queste superfici clicco due volte con il comando area che diciamo come prima opzione calcola l'area ma come seconda calcola il centroide cioè il centro della geometria centro geometrico quindi andiamo a collegare le superfici che escono da ruled surface a questo comando area e ad individuare il centro della geometria adesso andremo a essenzialmente per effettuare la scalatura del profilo esterno ad operare proprio il comando scala scale a collegare a collegare la curva che avevamo ottenuto precedentemente e a dare come centro per la scalatura il centro geometrico delle superfici e a dare come fattore di scala possiamo dare uno 0.8 un fattore che va a definire quanto deve essere grande il secondo portale rispetto al primo e vedete che ci ha individuato una serie di portali che stanno questa volta tutti all'interno dei profili esterni dei portali che avevamo definito tramite questa policurva quindi a questo punto possiamo chiamare questo spessore spessore dei portali direzione x e possiamo andare a togliere la preview degli oggetti che non ci servono quindi tutti questi oggetti non devono essere visti forse sì perché in effetti non servono in questo momento adesso vediamo che abbiamo soltanto i portali interni vado a fare ancora un po' più di pulizia per esempio mi erano rimasti questi punti vedete queste in grigio chiaro significa che sono visualizzati però in questo momento mi creerebbero solo più confusione quindi vado a togliere la preview barra spazzatrice disable preview se non so dove sono gli altri elementi che voglio cancellare basta selezionare a zone nella nostra definizione vedete che qui ci sono questi punti che adesso non mi interessano quindi tolgo della preview seleziono quest'altra parte vedete che mi seleziona questi punti in alto li voglio togliere seleziono quest'altra parte della definizione e anche questo voglio spegnere tutto adesso vedo soltanto i profili interni quello che voglio riaccendere sono i profili esterni quindi che si trovavano dentro a join che mi crea queste policurve quindi effetto la preview benissimo quindi vedo solo profili interni e profili esterni a questo punto applico di nuovo ruled surface e vado a collegare la policurva esterna con la policurva interna con la lista delle policurve interne ecco quello che attengo e vediamo come varia al variare dello spessore quello che non mi convince molto è l'approssimazione che avviene in questi punti quindi vado ad effettuare il bake per vedere se questo è un fenomeno di visualizzazione oppure è proprio un problema di algoritmo vedete era un problema di visualizzazione effettuando il bake l'ho portato in ambiente rino in ambiente rino chiaramente la visualizzazione è molto migliore perché in grasshopper siccome si lavora con geometri molto complesse per ridurre il numero di poligoni con cui diciamo è costretto ad effettuare i calcoli grasshopper compie automaticamente delle approssimazioni quindi quando avete dei dubbi basta effettuare il bake portarlo in ambitorino e vedete che le geometrie compaiono perfette quindi selezioniamo tutto quello che abbiamo importato in il rino e cancelliamolo quindi abbiamo detto che questo problema che si verifica sugli angoli non è un problema reale però vi faccio vedere anche un'altra cosa sulla visualizzazione già che ci sono vedete qui io ho come visualizzazione low quality che significa che diciamo ridurrà i tempi di calcolo però ci dà una visualizzazione bassa proviamo a mettere high quality magari vedete l'errore già si riduce e possiamo ancora aumentare la qualità ma questo non ha senso perché aumenterà di molto i tempi di calcolo io voglio che invece i tempi di calcolo siano snelli quindi ritorno su low quality benissimo quindi queste curve abbiamo detto che queste superfici ci vanno bene adesso diamogli uno spessore quindi uno spessore in direzione y e per farlo semplicemente andiamo con extrude extrude ogni superficie in che direzione in direzione abbiamo detto y doppio clic y di che distanza adesso lo andiamo attribuire a y immaginiamo di dare uno spessore di 10 cm quindi 0.1 e chiamiamo spessore portali direzione y e lo colleghiamo vediamo che sicuramente sta effettuando il calcolo ci riporta il portale ad uno spessore più modesto ecco benissimo adesso andiamo a realizzare i nostri vetri di raccordo poi andremo ad effettuare delle modifiche perché vedete se qui andrò a costruire il mio vetro probabilmente il vetro che partirà dal primo portale non andrà a collidere perfettamente con il secondo portale ma in questo punto per esempio potrebbe sbordare cioè non c'è l'intersezione tra i due portali questo perché vedete che bisognerà adoperare delle variazioni sulla frequenza sulla frequenza dei dei setti ma questo è molto facile perché stiamo lavorando con un software parametrico quindi sarà necessario semplicemente modificare dei parametri quindi completiamo la geometria poi andremo ad effettuare gli aggiornamenti successivi allora un altro consiglio che vi do adesso è ridurre un po' la geometria cioè stiamo lavorando con circa mille portali possiamo lavorare benissimo con 300 non perdiamo niente quindi andiamo a modificare il numero di portali lo mettiamo a 300 soprattutto chi ha un computer che magari non è molto performante meglio ridurre il numero il numero di oggetti nella scena e questo andrà diciamo ad aiutare moltissimo ad aiutare moltissimo nel lavoro ecco abbiamo ridotto che cosa si ha abbiamo ridotto il numero di portali non abbiamo modificato niente sulla frequenza si ha che essenzialmente un distacco diciamo a livello di angolo troppo elevato tra un portale e quello successivo ma in questo caso non ci preoccupiamo perché dopo andremo ad effettuare delle modifiche sulla sulla frequenza benissimo andiamo a procedere con quello che abbiamo iniziato quindi andiamo a creare il vetro il vetro individuiamo la curva che va a definire il vetro partiamo sempre da scalare la curva base che era questa in cui sono contenute le le policurve esterne possiamo togliere anche la preview delle superfici e delle estrusioni in modo che possiamo ragionare meglio sulle curve quindi andiamo a prendere la curva esterna e a scalarla di nuovo sempre quindi possiamo copiare lo scale che già abbiamo contro il C contro il V quindi sempre la geometria sempre la curva cambierà il fattore il fattore essenzialmente creiamo uno slider da 0.9 deve essere un numero compreso tra 0.8 e 1 addirittura potremo diciamo effettuare dei calcoli matematici per definirlo se non vogliamo dare un altro slider per esempio potremmo dire che questo fattore è dato da mat meno quindi è dato da 1 che è il valore diciamo unitario quindi qui posso inserire su un pannello magari in modo che capisco che è una costante 1 quindi cosa sarà dato questo fattore da 1 meno anzi in questo modo faccio un pochino più di confusione ma questo chiaramente mi darà 0.2 contro C contro V di nuovo 1 anzi ecco quindi questa è la distanza tra il valore unitario quindi dalla curva esterna e quella interna adesso lo divido per esempio per 2 diviso copro il pannello per 2 e lo do e quindi questa è la metà della distanza tra la curva interna e la curva esterna se io voglio che il vetro sia a metà della distanza tra la curva interna e la curva esterna devo sommare alla curva interna questo incremento quindi la curva interna stava a 0.8 faccio un più significa che 0.8 più la metà della distanza dovrà essere il valore del nostro slider quindi la differenza sta nel fatto che se io qui nel spessore dei portali in direzione X metto 0.7 vedete che il vetro che la curva che rappresenta il mio vetro si trova sempre al centro del portale benissimo in questo modo è eliminato un parametro e questo vedrete che è un'operazione vi accorgerete lavorando in grasshopper che è molto utile soprattutto per controllare il modello con meno parametri possibili benissimo abbiamo quindi la nostra curva la curva quindi andrà estrusa in che direzione? in direzione sempre Y e per che distanza? la distanza sarà la distanza tra un portale e l'altro che abbiamo definito come primo parametro benissimo questo è il concetto del nostro vetro adesso andiamo a definire invece gli elementi strutturali del vetro gli elementi strutturali del vetro per definirli partiamo sempre dalle curve centrali quindi andiamo a togliere la preview di questo oggetto perché se no non vediamo le curve che abbiamo selezionato ecco seleziono la curva centrale e vado a dividerla allora questo ragionamento che stiamo facendo non è pulitissimo perché avremmo dovuto dividere le tre curve cioè ritornare le tre curve base e dividerle ma in questo caso anche per una questione di sintesi diciamo lo facciamo sulla curva per intero però se volete fare il lavoro alla perfezione essenzialmente prendete le tre linee di partenza le dividete e fate il procedimento che vi sto per spiegare prendiamo quindi scale lo colleghiamo a divide e lui individua su questa policurva numerosi punti immaginiamo di di voler definire il numero di sostegno quindi facciamo uno slider e mettiamo 20 e chiamiamo doppio clic sul nome lo chiamiamo numero di sostegno e lo colleghiamo ad n quindi ci indirerà 20 punti su ogni portale a questo punto che cosa andremo a fare? a muovere questi punti sul portale successivo quindi selezioniamo scusate doppio clic move in direzione y dei punti quindi essenzialmente per ogni portale cosa ha fatto? ci ha creato i punti in direzione y questi punti vedete questi punti sono stati mossi qui a questo punto però devono essere mossi qui e per farlo semplicemente bisogna dire che deve muoverli della distanza che esiste tra un portale e l'altro quindi andiamo sempre a recuperare lo stesso slider distanza tra portali e lo colleghiamo ad y benissimo adesso non resta che collegare i primi punti con i secondi e lo facciamo tramite una linea line una linea tra due punti quindi colleghiamo il risultato di divide con il risultato di move e questo saranno gli assi dei nostri sostegni per dargli una valore di superficie semplicemente andiamo ad applicare il comando molto comodo che si chiama pipe non pipe variable è pipe normale che essenzialmente collega ci crea una superficie intorno a questo asse quindi diamo come curve base le linee che abbiamo trovato e come raggio vedete comincia ad essere abbastanza impegnativo come calcolo come raggio diamo un raggio magari di 0.05 spessore questo possiamo chiamare spessore scusate 0.05 mi crea automaticamente il slider doppio clic su nome spessore questo è il raggio raggio sostegni ok e colleghiamo ad R il computer sta calcolando che ed ecco questo è il nostro sistema di sostegni benissimo quindi adesso come vi avevo anticipato c'è bisogno di ritornare un attimo sulla precedente definizione per modificare la frequenza allora intanto vediamo il nostro risultato quindi all'interno di pipe abbiamo i nostri sostegni adesso andremo a tenere soltanto gli elementi tridimensionali quindi abbiamo in extrude abbiamo messo i nostri vetri in quest'altro in quest'altro extrude abbiamo messo i nostri portali benissimo vedete questo è il problema che evidenziavo prima questo vetro deve andare a collidere con il portale ma questo è il problema dovuto al fatto che quest'angolo rispetto a questo è troppo accentuato deve essere meno deve essere più ridotto per far questo bisogna andare a lavorare sulla frequenza e sui domini che avevamo dato agli angoli perché adesso è il momento di effettuare i perfezionamenti quindi andiamo sui domini io per semplicità avevo dato i domini espressi in gradi in realtà quando si adotta il seno il coseno queste funzioni trigonometriche è sempre bene lavorare i radianti quindi per prima cosa vado a far dipendere tutti tutti i domini dai radianti vediamo un po' essenzialmente per passare da angoli ai radianti è molto semplice basta cliccare e scrivere rad essenzialmente va a convertirci i nostri angoli decimali in radianti quindi vado a collegare vado a sostituire questi vado a inserire praticamente i radianti tra i precedenti slider e i domini alla base delle nostre sinuni solidali e inoltre ne approfitto per collegare tutti i nostri domini allo stesso slider in modo che non dovrò andare a modificare successivamente tutti questi slider ma solamente uno quindi sempre da qui vedete vado a prendere questa componente e la collego alla del dominio questa componente alla B del dominio e lo ripeto su tutti gli altri quattro punti posso copiarmi anche per semplicità questa coppia e portarmela dietro e inizio in questo modo controllerò il dominio di tutte le funzioni tramite due slider vedete che a questo punto i panel e gli slider che vado si creano degli slider che non sono collegati a niente per esempio questo vedete se lo spostate non c'è nessun collegamento quindi lo possiamo anche eliminare continuo spostando i miei due pannelli vicino agli altri domini non c'è nessun Grazie a tutti. Quasi finito. Ci vuole un po' perché comunque ogni volta che vado ad effettuare delle variazioni mi modifica anche tutte quelle successive. Ok, abbiamo completato. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo messo che il dominio va tra 0 e 360 gradi. Allora, qual è il punto? Se guardiamo questo... Vedete che i portali si muovono di un determinato angolo. Vedete? Ma se guardiamo il nostro schema, vedete che da 0 a 360 gradi la nostra curva presenterà un massimo e un minimo. Quindi, adesso la funzione è espressa correttamente perché... Perché in effetti, se guardiamo la nostra struttura... Si può notare che c'è, essenzialmente, che si può intravedere questa curva che rappresenta il seno. Quindi abbiamo effettivamente scritto bene la definizione. Adesso, però, quanti picchi vogliamo avere in questa lunghezza? Vedete che i picchi dall'immagine... Forse da superiore si vede meglio. Vedete che... Da queste immagini ci saranno una ventina di picchi. Quindi, essenzialmente, che cosa andiamo a fare? Invece che far variare tra 0 e 360, andiamo a far variare da 0 a 360 per 20. Cioè, se vogliamo avere 20 oscillazioni complete da 0 a 360 gradi, semplicemente possiamo moltiplicare 360 per... Facciamo un numero di oscillazioni. Quindi 20. Uno slider. E lo colleghiamo al posto di 360. E ne vediamo come... Reagisce il nostro modello. Eccolo qua. Vedete? Quindi, in questo caso, ci va a creare una ventina di oscillazioni. E l'aspetto è molto simile a quello voluto. Quindi, essenzialmente, ricordatevi sempre... Io l'ho usato e ho lavorato in gradi per migliorare la comprensione. Però, è sempre meglio lavorare i radianti. Allora, adesso, vediamo che abbiamo quasi risolto il nostro problema, però rimane ancora un po' qui. Quindi, essenzialmente, che cosa andiamo a fare? Andiamo a ridurre questo valore. Proviamo a portarlo, per esempio, a 19. Quando si fanno queste modifiche a un modello completo, vi conviene, invece di modificare, trascinando il valore, da sinistra a destra, potete modificare direttamente il valore, perché così effettuerà soltanto un calcolo. Se no, immaginiamo, io lo volessi portare a 18, lui calcola il 20 e il 19. Invece, io se metto già il 18 qua, mi calcola solo il 18. E quindi, diciamo, i calcoli saranno ridotti. Commit changes. Vediamo. Ecco, la sta calcolando. Si è ridotto un po', ma non ancora abbastanza. Riduco a 16. Perché riduco? Perché avendo meno picchi, diciamo, meno rotazioni complete, significa una riduzione dell'angolo tra il primo e il secondo portale. Vedete, si è ridotto ulteriormente, però ancora rimane in qualche punto questa discrepanza. Voi direte, ma io volevo 20 rotazioni complete. Basta allungare, basta lavorare con il numero di portali. La cosa bella è che comunque abbiamo sempre una coerenza geometrica. Vedete, su 14 ci siamo quasi. Ah, chiaramente, possiamo adesso, invece di ridurre il numero di cerchi, possiamo lavorare, il numero, diciamo, di oscillazioni, possiamo lavorare anche sul fattore di scala del vetro, cioè metterlo magari più interno. Quindi potrei ridurre lo spessore interno in direzione X. Quindi portarlo a 0,7. Vediamo cosa succede. Vedete, e già abbiamo risolto questa piccola discrepanza che si era venuta a creare. Ed ecco il nostro sistema geometrico. Chiaramente le dimensioni sono, diciamo, tutte manipolabili, per cui una volta creato un modello di questo tipo potete sbizzarrirvi con la forma, adattarla. Io non ho usato in questo nessuna dimensione, se non per tenere delle proporzioni adeguate. Però a tutti gli effetti a me non importa se questa dimensione sia 10 metri o 20 metri, in quanto io basta assegnare a uno slider il valore corretto. Una volta che è deciso, magari qui ci dovranno passare due treni, quindi sicuramente ci sarà l'ingegnere che si occupa delle ferrovie, che vi dirà la grandezza del passaggio. A me basta, diciamo, sapere quella per modificare in un secondo l'intero modello della copertura. Sì, chiaramente adesso il modello appare tutto rosso. È possibile anche differenziarlo all'interno di Grassopera, anche se i materiali, diciamo, non sono un granché. Però, diciamo, per lavorare sono utili. Quindi potrei dare dei materiali al nostro oggetto. Quindi, per esempio, sostegni e voglio dare un materiale grigio. Semplicemente vado su Display, Preview, Custom Preview, mi chiede la geometria da colorare e lo shader. Lo shader può essere benissimo anche un colore. Oppure un materiale. Create material, collegate il materiale allo shader. sul canale diffuso diamo un colore, un colore grigetto. Ok. Ecco qua che abbiamo colorato i nostri sistemi di sostegno. Facciamo lo stesso con il vetro. Ctrl-C, Ctrl-V. A me aiutano questi materiali perché mi ricordo quali sono i contenitori dei, diciamo, delle superfici finali. Quindi colleghiamo questi erano i nostri portali con la geometria. Questa volta li vogliamo di un colore prossimo al bianco. Ricordate che il bianco e il rino appare nero. In alcuni, soprattutto dei rini vecchi, diciamo, il bianco può comparirvi nero. Coppiamo di nuovo Ctrl-C, Ctrl-V. E andiamo a collegare le estrusioni che invece era il nostro vetro. Il vetro, chiaramente, avrà un valore di trasparenza. Se stazionate sulla T, vedete che se mettete 0 è opaco, se mettete 1 vi dà un materiale trasparente. Quindi, essenzialmente, vado a mettere un materiale prossimo all'1, 0.9 e assegnare un colore che magari il colore che può, diciamo, ricordare non l'ha preso. Sì, perché non lo prende? Perché c'è la preview accesa, quindi ricordatevi di togliere la preview. Ecco. Quindi, questo è essenzialmente il nostro risultato. variabile in ogni secondo e in ogni momento semplicemente spostando questi parametri. quindi se io invece di 300 portali ne volessi 400 ci sarà da aspettare qualche secondo ma non dovrò rifare tutto il modello da capo mettendoci errori mettendoci distrazioni nel diciamo nell'esecuzione per poi in alcuni casi anche voler magari in un secondo tempo ritornare alla precedente configurazione. Quindi ci metterete magari un po' più nella realizzazione del primo modello ma poi diciamo supererete chiunque nella realizzazione dei modelli successivi. grazie per aver guardato il video se ti è servito iscriviti al canale e metti mi piace al video sto preparando altri tutorial su edifici famosi e ti invito però a scrivere nei commenti qualsiasi proposta o suggerimento che o magari struttura su cui vorreste avere un tutorial. A presto!